Italia-Inghilterra, Southgate in estasi alla statua di Maradona. Napoli ci siamo. Stasera si apre un nuovo capitolo per la nazionale di Roberto Mancini. Quello che porterà verso gli europei 2024, con il primo impegno ufficiale del girone C. Chi sarà contro l'Inghilterra? Gli azzurri tornano a Napoli a distanza di quasi 10 anni. Nello stadio del Dio del Calcio, Diego Armando Maradona. Mancini chiede aiuto al capoluogo partenopeo. Alla sua gente e all'entusiasmo degli oltre 40.000 tifosi che saranno sugli spalti. Per partire nel migliore dei modi. Ieri intanto, il citi degli inglesi Gary Sotgate nel giorno di rifinitura della sua squadra. È rimasto estagiato davanti la statua di Maradona. Un pezzo d'arte realizzato da un'idea di Stefano Ceci. Ex manager di Diego che riproduce esattamente in 3D, il piede del pibe d'oro. Sotgate è rimasto per qualche secondo immobile a guardare, quasi incredulo, di fronte. È proprio il caso di dirlo, ha tanta bellezza. Virgola. 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 Grazie a tutti.